La tecnologia superveloce IEMCA incrementa ulteriormente le elevate performance del nostro caricatore di barra. Ridurre drasticamente i tempi improduttivi del tornio è sempre stato nostro obiettivo. Gli aspetti più incisivi del caricatore di barra IEMCA sono il tempo di cambio barra e il tempo di pausa fantina. Grazie alla tecnologia superveloce il primo è stato portato da oltre 30 secondi a meno di 20. Il tempo di pausa fantina invece imposto al tornio all'apertura e chiusura della pinza possiamo ridurlo praticamente a zero. Ecco cosa significa per IEMCA tecnologia superveloce. Se prendiamo un caricatore BOS338 con tempo di cambio barra 20 secondi e pausa fantina tendente a zero per la produzione di un pezzo di lunghezza 55 mm con tempo ciclo 25 secondi otterrete un 4% in più di produzione annua. Questo vi farà guadagnare 3.000 euro a turno per macchina. Questa è la vostra tecnologia IEMCA superveloce. grazie a tutti. Grazie a tutti